Buongiorno mister, al di là del valore puro, intrinseco dell'Europa League, della Coppa, del Trofeo, questa potrebbe essere anche un'acqua di salvataggio, una porta di servizio per arrivare in centro, in questi giorni che è segnale appunto della squadra? La squadra si rende conto, al di là appunto, proprio dell'Europa League, che è anche una strada per arrivare a quello che è il vostro obiettivo, quello di poter tornare in centro, sì. Penso che adesso noi abbiamo due possibilità, penso che pochi sono che credono nella possibilità nel campionato, ma noi continuiamo a credere che è possibile, ma penso che in questo momento è molto importante recuperare la squadra, quello che ha fatto nel passato, senza creare qualsiasi tipo di pressione in questo momento. Noi non possiamo pensare a vincere qualche cosa se noi non ritorniamo a essere la stessa squadra. E penso che il nostro lavoro in questo momento è ritornare a essere una squadra fiduciosa, che crede che è possibile vincere qualche partita quando la squadra è avversa. Alessandro! 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 Alessandro!